buongiorno a tutti oggi annunceremo trene dalle ore 12 e 51 alle ore 14 e 34 dalla stazione di campiglia marittima il treno regionale veloce 23 39 di tren italia proveniente da pisa centrale è diretto a roma termini delle ore 12 e 51 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a follonica monte pescali grosseto albinia orbetello capalbio montalto di castro tarquinia civita vecchia santa marinella marina di cervetteri cervetteri ladispoli roma san pietro roma trastevere roma ostiense il treno regionale veloce 23 38 di tren italia proveniente da roma termini è diretto a pisa centrale delle ore 13 05 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a san vincenzo cecina rosignano livorno centrale il treno intercity 35 1 1 2 di tren italia proveniente da salerno è diretto a torino porta nuova delle ore 13 34 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a livorno centrale pisa centrale viareggio massacentro carrara avenza la spezia centrale sestri levante chiavari rapallo genova brignole genova piazza principe alessandria asti torino lingotto il treno regionale 11 8 8 5 di tren italia proveniente da pisa centrale è diretto a piombino il treno regionale veloce 11 7 1 5 di tren italia proveniente da firenze santa maria novella è diretto a allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma a follonica scarlino gavorrano monte pescali il treno intercity 657 di tren italia proveniente da milano centrale è diretto a grosseto delle ore 13 e 50 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a san vincenzo castagneto carducci cia e cina vada rosignano castiglioncello quercianese il treno regionale 67 78 di treno regionale 67 78 di tren italia proveniente da grosseto è diretto a pisa centrale delle ore 13 e 52 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a san vincenzo castagneto carducci cia e cina vada rosignano castiglioncello quercianella livorno centrale il treno frecciabianca 97 72 di tren italia proveniente da roma termini è diretto a milano centrale delle ore 13 e 57 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a livorno centrale pisa centrale viareggio massa centro la spezia centrale chialari rapallo genova brignole genova piazza principe pavia il treno regionale 11 7 1 6 di tren italia proveniente da grosseto è diretto a firenze santa maria novella delle ore 14 e 34 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a san vincenzo castagneto carducci bolteri cecina vada rosignano castiglioncello quercianella antignano livorno centrale pisa centrale navacchio san fridiano a settimo cascina ponte d'era casciana terme san romano montopoli santa croce san miniato fucecchio empoli montelupo capraia signa san donnino badia le piagge firenze rifredi ciao non 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 Grazie a tutti.